Grazie da Piazza Affari. Avete sentito della sospensione del titolo Mondadori il risparmio per eccesso di rialzo dopo la decisione presa ieri dai vertici della S.B.E., la Silvio Berlusconi, editore, di quotare in borsa la società al posto del titolo Mondadori. Ma perché Berlusconi si è finalmente deciso a cercare partners in Piazza Affari? Paolo Cantore. Fino a qualche anno fa si vantava di possedere il 100% di ogni sua attività, di ogni sua telecamera, di ogni film in magazzino. Adesso, contrariamente alle affermazioni sempre fatte, cerca soci in borsa. Silvio Berlusconi si è deciso al grande passo, dicono alla Fininvest, per le dimensioni raggiunte dal gruppo. Ma c'è anche una gran massa di debiti accumulati. La Fininvest, con un fatturato che sfiora i 10.000 miliardi, è al sedicesimo posto della classifica di Mediobanca dei maggiori gruppi italiani. Questi dati risalgono al 91, ma già allora il Cavaliere aveva accumulato, secondo Mediobanca, quasi 4.000 miliardi di esposizioni, di cui un migliaio a breve termine, quasi il 40% del fatturato. Per contro, vantava al suo attivo titoli negoziabili, giacenze di cassa e depositi bancari, tutte cose facilmente trasformabili in denaro liquido, per un ammontare netto di circa 1.000 miliardi. La quotazione in borsa della Silvio Berlusconi Editori è il primo passo della Fininvest verso Piazza Affari. Se continuerà su questa strada, la Fininvest uscirà dalla logica del capitalismo familiare, per navigare in mare aperto. Ma dovrà fare i conti con gli azionisti e con una serie di impegni più stringenti. Insomma, Berlusconi non sarà più solo. Per la verità, a Natale scorso, ad Arcore, aveva detto ai suoi dirigenti che un socio esisteva già, al 40%, ed alludeva le banche creditrici. Così comincia invece a sbarazzarsi gradualmente di questo azionista occulto.